potrebbe risultare meno rigoroso per l'Aula il fatto di togliermi la maglietta con la scritta di Sopri chi ci sta seguendo magari non l'ha ancora vista bene c'è scritto basta euro su questa maglietta non ci sono più tra l'altro per rinunciare ho visto che stiamo creando una polemica su un appiglianetto anche del Presidente in questo momento è coperta di arrivamento di cedici bisogna bussare una giamica sopra quello che si indossa e che poi viene sotto e un appiglianetto del coro non mi sembra che su questa scritta ci sia stato che possa danneggiare l'immagine dell'istituzione e offendere la sessualità di quattro detto solo le alternative sono due quando torna il Presidente Cantanio il Presidente Cantanio o altrimenti la Vicepresidente Parmaggi però dovrà intervenire fino a dove non vi fa la ringrazio il Consigliere Lanni si sa come da fuori in questo caso possiamo procedere a voi ha chiesto di intervenire il Consigliere Fanetti e la facoltà io l'ho detto io non tornerete la maniera però potrà risultare meno del coro che ho fatto a quello di essere vestito grazie perché il Consigliere Fanetti parliamo di un'ottima serie che è un'ottima cosa che è più importante allora io però chiedo una cosa ho fatto parlare tutti chi è d'accordo può restare in lama chi non è d'accordo può uscire che non gli sto pagano grazie Consigliere Fanetti grazie Presidente mi ha capito che cosa vuol dire essere rigoroso come no mi tengo che la mia presentata da 236 sia un'ottima serie e moltoibile nel senso e siamo dei punti di attesa che ci sono questo è un modo per ridurre quelle che sono di attesa a Marco Neve in una città di un sistema della terza di commissione questo avviene a chiuso risorse quindi sviluppando quello che è l'organizzazione interna dell'azienda spedaria delle altre per ottenere fondori delle generazioni più importanti e al cittadino sicuramente che lo vengono su quello e inoltre contro questo c'è anche soprattutto l'attentamento di un pregiamento di un sistema che potrebbe essere utilizzata nella logica della macro del giunto e che invece di inersi a un miglior male perché ci possono essere di modalità di operare a livello del sistema di un'imperi di un'imperi